Il cappero è elemento fondamentale per le mie ricette anche di couscous. Oggi parleremo del cappero che per me è quello di pantelleria perché è più cicciottello. Il sapore e il gusto che danno i capperi siciliani, soprattutto i capperi di pantelleria, sono eccezionali. Questo è quello delle olie, più piccolino, ma è straordinario lo stesso, ha un gusto più concentrato. Il cappero è come il prezzemolo. Ci sta dappertutto. Oggi per esempio ho fatto un piatto dove il denominatore comune che legava l'oliva, l'origano, il limone, il pesce è appunto il cappero. Quindi grande onore a questo frutto.